splendido devo dire devo dire non devo dire voglio dire bellissimo vivi e effervescenti stimolanti se certamente ci convincono a continuare ma ci convincono a continuare per questo tipo di pubblico non esiste un teatro per per liceali piuttosto che per impiegati farmacisti ingegneri o avvocati esiste il teatro che ti emoziona che ti fa sorgere domande qui sono sorte domande quindi questa cosa ci ha notevolmente impressionato perché rispetto ad altre situazioni qua veramente il dibattito nasce e si svolge e si è svolto tra di loro e questa cosa è stata secondo me meravigliosa bella grazie ad asteria ma forse socratico fino in fondo no perché sono perché perché a volte il dialogo non procede a uno stallo mentre socrate di volta in volta procedeva e faceva un passo avanti un passo in più però con l'aiuto del professor girgenti qualcosa si 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 fa aspetta 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 pesa pesa